Allora, benvenuti alla nona settimana del corso di Statistica per la Digital Economy. Prima di iniziare il corso vi segnalo il 6 dicembre che ci sarà un seminario online. Questo seminario è coorganizzato dal nostro Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali, dal Centro di Statistica Robusta, dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura e dal Dipartimento di Medicina. Ci è comune il fatto che tutti questi dipartimenti utilizzano MATLAB. Il titolo del seminario è puramente online, qua c'è il click per fare il join al meeting. In questo seminario ci sono diversi speaker, ci saranno saluti per rettori, diversi speaker, dal Joint Research Center della Commissione Europea, dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura. Questo è un dottorando che adesso lavora per i Telti, una molto 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 bravo. Poi ci sarà un intervento da parte della professoressa Guardasoni e infine chiude Joss Martin. Joss Martin è uno che ha sviluppato diversi brevetti in MATLAB, è il direttore del MATLAB Online, insomma una delle figure più importanti di tutta la MATLAB. Nel file che viene distribuito dalla locandina, qua potete vedere questo CV impressionante di questo Joss Martin. Ecco, bene, allora, chi partecipa, la partecipazione solo, esclusivamente online, chi partecipa gli diamo un punto in più, oltre a quelli eventualmente già di bonus, già accumulati. Ecco, un'occasione, se riuscite ad intervenire con queste persone, o che queste persone si ricordano del vostro nome, sicuramente fate un figurone. Va bene, ecco, è un'occasione, mi raccomando, non lasciatela in nessun modo mancare o perdere, sfruttate quest'occasione. Dunque, la volta scorsa abbiamo iniziato il trattamento delle componenti principali, vediamo se sta registrando, sì, tutta a posto. Allora, avevamo detto che se le variabili presentavano diverse unità di misura, diverse ordine di grandezza, le variabili dovevano essere standardizzate. La condizione necessaria per l'applicazione delle tecniche delle componenti principali era che le correlazioni tra le variabili fossero elevate. Però non è possibile ridurre delle dimensioni se le variabili sono già tra loro indipendenti. Insomma, se i dati sono disposti in questa maniera, magari in tre dimensioni, vedete che ce n'è solo una, una dimensione che è rilevante. Questa. Andiamo anche a schermo intero. Vedete, se i dati sono disposti in 3D, questa è in realtà, c'è solamente una sola dimensione che è rilevante. Se i dati invece sono disposti, come si dice, a osso di seppia, ci sono solamente due dimensioni rilevanti. Se i dati sono incorrelati come un pallone, questo pallone non lo posso, non posso ridurre le dimensioni. Di conseguenza, riepilogo delle tappe dell'analisi in componenti principali, analisi della matrice di correlazione, condizione necessaria, correlazione elevata, estrazione delle componenti principali, calcolo degli autovalori, gli autovettori della matrice di correlazione o della matrice di covarianze, calcolo della varianza totale spiegata dalle diverse componenti, calcolo della percentuale di varianza accumulata. L'altra volta abbiamo lasciato in sospeso il problema quante componenti prendere? Chiedevi proprio tu, vero? Quante componenti prendere? Ecco, ci sono diversi criteri. Questi criteri sono descritti a pagina 359. Esistono quattro criteri da seguire a pagina 359 che possano aiutare a capire quanti componenti principali si devono prendere. E sono gli ultimi paragrafi di pagina 359. Allora, percentuale di varianza spiegata dalle prime K componenti principali. Questa deve essere maggiore di 0,95 elevata alla P. Ad esempio, se io parto da 7 variabili e voglio spiegare in media un 0,95 di ogni variabile, la soglia da spiegare deve essere maggiore di 0,95 per P. Facciamo un po' il calcolo. Se P è uguale a 7, se P è uguale a 7, come era nell'esempio che abbiamo fatto l'altra volta sulle province italiane, 0,95 elevato a P mi fa 0,69. Cioè, devo spiegare almeno il 69%. L'esempio che abbiamo visto la volta scorsa spiegava il 75% e andava bene. Oppure, se le variabili sono standardizzate, le variabili hanno varianza unitaria. Di conseguenza, devo prendere gli autovalori che sono maggiori di 1. Allora, proviamolo. Proviamo a fare. Allora, se noi facciamo loadCitiesItal, così caricavamo cities, prima facciamo clear, loadCitiesItal, poi PCAFS, Cities Italy, ok, tutto a posto, tutto in automatico, Allora, le prime due componenti principali spiegavano il 75,36%. Sette variabili è maggiore della soglia di 0,69. Oppure, andiamo a prendere questo, lo mettiamo dentro out, il risultato di TCAFS, diciamo close all, lo mettiamo dentro out. Allora, out, appunto, vedete che sono tutti i field di questo out, out, explained, explained T, la tabella che contiene le percentuali di varianza spiegata. Questi sono gli autovalori, vedete che i primi due autovalori sono maggiori di 1, i rimanenti sono tutti minori di 1, tutti gli altri autovalori. Ancora una volta, in questo esempio, il criterio è prendi solo le prime due componenti principali. Cioè, sia con questo criterio, oppure con questo criterio, diciamo annulla, oppure con questo criterio, in questo caso, non c'è dubbio che dobbiamo prendere solamente due componenti principali. Oppure, l'altro criterio è un criterio minimale. Io voglio spiegare almeno il 60, 70, 70%, bene, queste due spiegano il 75%, mi sta bene. Oppure, il cosiddetto, il cosiddetto, scriplot, questo, per vedere, vedete, i primi due spiegano una quota rilevante di varianza, poi la terza, la quarta, la quinta, misura molto inferiore. Va bene. calcolare la correlazione tra ciascuna variabile e le componenti principali, la cosiddetta matrice di componenti. nel, in quest'out, a vedere, questo che c'è, loadings t, la tabella dei loadings, queste sono le correlazioni, tra le variabili originarie e le componenti principali, che ci permettono di interpretare le componenti principali. il quadrato di questa somma dei quadrati di questi numeri è l'autovalore, primo autovalore, somma dei quadrati della seconda colonna è il secondo autovalore, somma dei quadrati degli elementi di ogni riga è invece la comunalità, la quota di varianza spiegata dalle prime due componenti principali di ogni variabile. Ripeto, somma dei quadrati di ogni colonna è il corrispondente autovalore, somma dei quadrati di ogni riga è la cosiddetta comunalità. out.communality st, e questa qua mi calcola già queste comunalità. Questa qua è il valore aggiunto, questa è la comunalità con riferimento alla prima componente principale, la seconda, e questa qua è la globale, la somma delle due. Cioè il valore aggiunto è spiegato dalle prime due componenti principali per il 92% circa, che sono i protesti, sono spiegati dal 68% circa. Poi, calcolo degli score, il score e il punteggio per ogni unità, questi score, li trovate dentro scorti, calcolo degli score. Ogni unità ha un determinato punteggio da inserire nel grafico, da inserire nel grafico qua. Le frecce sono proporzionali alle cosiddette correlazioni, tra le variabili e le componenti principali. I punti, i pallini, sono gli score. Adesso conosciamo ogni città ha un determinato score, un insieme di coordinate sulla prima e sulla seconda componente principale. L'analisi delle correlazioni mi permette di capire quale è il significato della prima componente principale, quale è il significato della seconda. Vedete che tutte le variabili, che sono cosiddette positive, legate in maniera diretta alla ricchezza della città, vanno tutti in questa direzione. Questo è l'indicatore di povertà. Tanto io mi sposto da sinistra verso destra, la provincia diventa povera. Questa invece, questa componente, è legata invece alle componenti di bancarotta e di protesti. Poi, questi score, questi score possono essere, e score abbiamo visto la volta scorsa che si facevano con Z per V, dove V è la matrice degli autovettori e Z è la matrice degli score. Questi score potevano essere con varianza pari a lambda. Allora, questi score, questi score che voi trovate con auto.score, questi, questi, la cove di questo, la cove di questo, la matrice di varianza e covarianza degli score è data aspettivamente dagli autovalori sulla diagonale principale, cioè cove di y è uguale alla matrice land degli autovalori. oppure questi cove io li posso standardizzare, li posso standardizzare dividendo per la radice quadrata dell'attrice quadrata della matrice degli autovalori. D'accordo? se li standardizzo allora una matrice di varianza e covarianza che è l'identità. e questo era la figura 11.7 e 11.8 del testo. score non standardizzati sulla sinistra, score standardizzati sulla destra. questi score mi permettono di vedere qual è il posizionamento di ciascuna unità, unità simili si collocano vicino nel piano cartesiano, mi permettono di capire se ci sono determinate unità cosiddette anomale in termini di combinazione di ricchezza o di malessere dell'azienda oppure città dove sono caratterizzate da valori di povertà elevate e valori di elevato malessere dell'azienda. mi permette di vedere qual è il gruppo di città dove si vive meglio. poi questi score e queste frecce io li potevo qua aggiustare. vedete questi score e queste frecce? adesso questo è l'obiettivo dei prossimi dieci minuti capire come si fanno queste cose. bene dunque, proprietà delle componenti principali questa trasformazione lineare è tale che spiega una quota più grande possibile di varianze delle variabili originarie rappresenta il miglior sottospazio per la proiezione dei punti minimizza le distanze ortogonali minimizza la somma dei quadrati dei residui è ottimo in diversi contesti vediamo adesso un altro esempio fate vedere se sta sempre registrando supponiamo che l'obiettivo sia trovare un indicatore sintetico di propensione al cinema abbiamo rilevato quattro indicatori le sale per 100.000 abitanti giorni di spettacoli biglietti venduti e la spesa per abitanti dall'esame della matrice di correlazione potete vedere che tutte queste variabili sono legate fortemente tra di loro in maniera crescente le province che presentano il maggior numero di sale sono quelli che presentano anche il maggior numero di biglietti venduti o il maggior numero di spesa per abitanti matrice di correlazione presentano i coefficienti di correlazione eneare che sono tutti positivi al posto delle quattro variabili una sola il cosiddetto indicatore sintetico di propensione al cinema quando facciamo l'analisi in componenti principali vediamo che la prima componente combinazione lineare delle variabili originarie presenta una quota di varianza spiegata che è circa dell'88% non c'è dubbio che mi basta una sola variabile la prima componente principale come si interpreta questa prima componente principale? si interpreta guardando la matrice di correlazione la matrice dei cosiddetti loadings la matrice dei loadings che in realtà è un vettore perché io tengo solamente la prima componente principale la matrice dei loadings presenta tutti i valori positivi elevati di conseguenza la prima componente principale è effettivamente l'indicatore sintetico di propensione al cinema quello è un indicatore che ci permette di graduare le province italiane da quelle meno legate agli aspetti cinematografici da quelle più dedicate al cinema mi dimmi si in questo caso addirittura spieghi l'88% con una sola non c'è verso lasci fuori solamente un 10% si 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 perché tu devi vedere la correlazione devi interpretarla questa prima componente principale questa prima componente principale è correlata in maniera positiva o negativa con queste variabili originarie oppure sempre in maniera negativa e allora sarebbe il contrario degli indicatori di propensione al cinema in questo caso vedi che è i coefficienti di correlazione lineare tra sale per cento abitanti e la prima componente principale giorni di spettacolo e prima componente principale è positivo e quindi questo ci fa capire se la relazione è diretta o inverso giusto giusto non solo ti fa capire se è diretta o inverso ma anche l'entità della correlazione perché correlazione 020 vuol dire basta invece 093 è molto alta sicuramente ed è quello che ti permette di interpretare di battezzare questa prima componente principale ti dagli un nome effettivamente quello che siamo andati a trovare è l'indicatore sintetico di propensione al cinema effettivamente uno score più elevato per la provincia vuol dire che la stessa provincia è più dedica al cinema di un altro allora il quadrato di questi numerini la somma dei quadrati di questi numerini è il primo autovalore cioè 0.908 al quadrato più 0.938 al quadrato più 0.946 al quadrato più 0.951 al quadrato è l'autovalore questo è un coefficiente di correlazione lineare il quadrato di coefficienti di correlazione lineare è la cosiddetta comunalità l'r quadro ok il quadrato di coefficienti di correlazione lineare è l'indice di determinazione l'r quadro se io estraggo k componenti principali faccio la somma dei quadrati delle k righe e allora la cosiddetta comunalità qua estraggo una sola componente principale perciò il quadrato mi dà già la comunalità la comunalità la quota di varianza spiegata da parte della prima componente principale di ogni variabile originale tutte queste variabili sono spiegate bene dalla prima componente principale hanno una quota di varianza spiegata che va dall'82% al 90% bene la somma di questi numeri è l'autovalore bene la somma di questi numeri è l'autovalore primo autovalore la somma dei quadrati ok e qua la situazione finisce finisce qua poi andiamo a vedere un'altra un'altra questione partiamo dalla matrice dei dati standardizzati oppure dalla matrice degli scostamenti dalla media facciamo l'analisi sulla matrice di varianza covarianza oppure sulla matrice di correlazione nel 99% dei casi si fa l'analisi sui dati standardizzati 99% dei casi a meno che le variabili sono già percentuale perciò variano già tutte tra 0 e 100 oppure si sta parlando di numeri indici territoriali tutte cose che sono intorno a 100 oppure punteggi in diversi test oppure valutazioni di vari aspetti di customer satisfaction in tutti gli altri casi si lavora su variabili standardizzate per eliminare diverse unità di misura e diversi ordini di grandezza in questo caso variabili standardizzate ogni variabile a varianza pari a 1 la somma totale delle varianze di variabili standardizzate in presenza di p variabili e p che ogni varianza è 1 ok perciò la traccia di r nel caso di variabili standardizzate è la somma degli elementi sulla matrice di correlazione esattamente p la volta scorsa abbiamo visto componenti principali come combinazioni lineare delle variabili originarie come proiezione dei punti in un sottospazio e adesso vediamo questo terzo approccio componenti principali come migliore rappresentazione di rango r di rango ridotto di una matrice di rango p avete visto la volta scorsa quando andavamo a proiettare i punti lungo una retta una retta è un sottospazio che ha dimensione 1 perché tutti i punti giacciono lungo una retta io passavo da questo spazio di dimensione 2 allo spazio di dimensione 1 però aveva rango 1 invece i punti originari erano disposti in un diagramma di espressione che aveva rango 2 in generale i nostri punti sono disposti in una dimensione p che può vedere solo Dio noi dobbiamo rappresentarli in un sottospazio di rango 2 di A2 dimensione o al massimo di rango 3 perché il nostro obiettivo è sostituire al posto della matrice di partenza un'altra matrice una nuova matrice x cappello in modo tale da minimizzare questa somma di quadrati bene allora qua siamo a pagina poi c'è tutta la dimostrazione 337 338 bene allora la sostanza della dimostrazione è che la miglior rappresentazione di rango 2 si ha quando faccio gli quando prendo gli autovalori e gli autovettori della matrice x trasposto x in generale se parto dalla matrice x devo prendere questi questi coefficienti con i cappello i j si ottengono prendendo gli autovalori gli autovettori della matrice trasposto x se parto dalla matrice degli scostamenti dalla media la miglior rappresentazione di rango 2 si ottiene facendo riferimento a questa matrice che non è altro che la matrice di varianze e covarianze se parto dalla matrice z faccio riferimento tra matrice z trasposto z z trasposto z diviso n meno 1 è la matrice di correlazione allora adesso andiamo più nel nel dettaglio e facciamo riferimento a quella che si chiama la scomposizione in valori singolari scomposizione in valori singolari è un teorema fondamentale di algebra lineare che viene applicato sempre anche in questo caso all'analisi delle componenti principali che ci dice che ogni matrice può essere scomposta nel prodotto di tre matrici U, Gamma e V il file che vi ho preparato che lo trovate nel nel sito del corso il file si chiama scompout che vi parla di tutte queste scomposizioni qua dice generare una matrice di numeri casuali va bene calcolare il rango di questa matrice genero una matrice di numeri casuali 100 per 5 calcolare il rango calcolo una matrice di numeri casuali 100 per 5 numeri casuali 100 per 5 il rango rank di x questo è 5 sono 5 colonne correttamente indipendenti poi mi calcolo la matrice di varianze e covarianze s variabili che non sono legate tra di loro matrice di varianze e covarianze e covarianze piccole bene a questo punto mi vai a fare la scomposizione 8 vettori e 8 valori bene questa si chiama scomposizione spettrale e mi dice che la matrice s questa la matrice s può essere scomposta nel prodotto di queste tre matrici v lambda e v trasposto ok v lambda era con la l grande se faccio questo prodotto questo prodotto ricostruisce esattamente la matrice s e te lo scomposto come il prodotto di tre matrici la matrice degli 8 vettori v questa matrice degli 8 vettori è una matrice che è ortogonale la sua trasposta è uguale all'inversa costituisce un nuovo sistema di assi cartesiani dunque allora poi controllo dell'ortogonalità la traccia la traccia della matrice s 4.9 la somma delle varianze come si lega con questa matrice degli 8 valori questo qua è il primo 8 valore secondo terzo quarto e quinto la traccia della matrice lambda è uguale alla somma degli 8 valori e somma delle varianze bravissimo perciò questo diviso il totale è la quota di varianza spiegata la somma di questi due diviso il totale è la quota di varianza spiegata dei primi due poi abbiamo visto la volta scorsa il prodotto del questo qua è il lambda il prodotto della diagonale di lambda ok prodotto degli elementi sulla diagonale di lambda e il determinante di questo s è esattamente la stessa cosa il determinante è il prodotto degli 8 valori la traccia invece è la somma degli 8 valori somma degli 8 valori coincide con la traccia questo qua viene verificato il prodotto degli 8 valori coincide con il determinante bene questa matrice lambda io le voglio ordinare prendendo mettendo il primo valore più grande come elemento 1 1 il secondo più grande l'elemento 2 2 il terzo l'elemento 3 3 e così via va bene applico sort e faccio questo ordinamento e ho questa mia nuova matrice lambda che sono gli 8 valori che sono tra loro ordinati allora questa matrice questa matrice s questa matrice s allora può essere ricostruita come sommatoria di matrici di rango 1 questa s io la posso scrivere come questo lambda 1 1 per v con 1 per v con 1 trasposto più lambda con 2 2 più lambda 2 2 per v con 2 v con 2 trasposto poi più il terzo il quarto il quinto capito questa matrice allora questa matrice è la ricostruzione della matrice s con il primo otto valore con il primo otto vettore questa s ok capito questa qua viene fuori una matrice che è già di dimensioni 5 per 5 non la ricostruisce perfettamente tant'è vero che s meno questo è quello che rimane capito o poi posso dire no s io la ricostruisco con il primo e il secondo o anche con l'handa 2 2 meno v2 v2 trasposto oppure oppure la ricostruisco con i primi tre insomma questa matrice qua questa matrice qua che rango ha questa matrice qual è il rango di questa 1 qual è il rango se ci metto l'handa 2 2 v2 v2 trasposto sempre 1 esatto vedete che questa s viene ricostruita tramite la somma di p matrice quadrata e ciascuna di rango 1 e lo faccio con il loop ok capito non è che sto a scrivere qua il primo il secondo qua ci vado a mettere capito il primo più il secondo più il terzo più il quarto e il quinto adesso l'ho scritto qua da più bellissimo capito tutti i diversi blocchetti in realtà faccio questo quando faccio questo io controllo poi che sc hk1 oppure questa s sopra questa qua siano esattamente la stessa identica cosa allora questa no 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 non c'è assolutamente differenza s c hk1 e questa s è esattamente la stessa cosa s c hk1 meno s vedi la differenza è un 10 alla meno 15 e vatti uno li deve li deve vedere tutti a computer tutte queste cose come fa a scomporre una matrice con tanti blocchetti ciascuno di rango 1 bene questa scomposizione in valori singolari mi dice che la matrice di dimensioni n per p può essere scomposta come il prodotto di queste tre matrici u, gamma e v trasposte ed eccola qua la cosiddetta la cosiddetta la cosiddetta svd scomposizione in valori singolari singular value decomposition singular value decomposition performance the singular value decomposition of matrix 6 sac la cosiddetta è uguale a 1 per s per b primo questa qua è la scomposizione utilizzata da facebook da google per profilare tutti i clienti perché riduce le dimensioni questi qua vedi visto lo scandalo due anni fa delle elezioni americane si diceva che facebook aveva influenzato addirittura le elezioni americane loro facebook hanno tutte informazioni sensibili sugli orientamenti sessuali delle persone su tutte queste cose tutto chiaramente uno che ha messo magari i mi piaci in siti particolari legati magari a particolari convinzioni politiche loro sanno tutto perché poi loro hanno questa matrice che sono qua ci sono gli individui e qua ci sono i like perciò in questa scomposizione in valori singolari loro chiaramente vedono che tu sei simile tu no invece tu hai altre tendenze politiche di un altro e perciò sanno cosa farti vedere le pubblicità da farti vedere in quel determinato momento ognuno di noi è completamente profilato per ogni click ogni piace ogni foto che metti su facebook cioè è pazzesco il livello di controllo che è esercitato su ciascuno di noi vi dico sempre che google ci conosce molto meglio dei nostri genitori capito non esagero allora è vero è vero è vero dunque allora qua facciamo la matrice degli scostamenti dalla medis con tilde ogni colonna adesso a media zero ogni colonna a media zero e facciamo la scomposizione in valori singolari cioè questa queste scontilde la rappresentiamo come il prodotto di tre matrici U gamma e questa V tramite svd qua ha scritto V tramite svd perché questa la 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 V sopra o la V tramite svd è esattamente la stessa cosa capito questa V è esattamente la matrice degli otto vettori della scomposizione della matrice S che avevamo visto che avevamo visto prima questa gamma questi gamma qua in realtà sarebbero i cosiddetti valori singolari le radici quadrate degli autovalori le radici quadrate degli autovalori sono le lunghezze dei semiassi pazzesco questo come vai a qualsiasi matrice vedete qua c'è la lunghezza dei semiassi dell'ellisse o dell'ellissoide qua ci sono gli otto vettori questi qua V sarebbero gli otto vettori della matrice x e x trasposto per x ma se qua parto dalla matrice scontilde o x trasposto tilde x trasposto x trasposto x trasposto x trasposto x con tilde che sarebbe a meno del fattore n-1 la matrice di varianze e covarianze se qua al posto di x ci metto z z trasposto z metto cioè la matrice di correlazione fare questa scomposizione in valori singolari in realtà vuol dire che ti trovi tutto quando hai già trovato questo V vedete questo x per V e questi sono gli score vedete gli score che hanno questa matrice di varianza e covarianza l'anno questi gamma non sono altro che i valori singolari le radici quadrate degli autovalori le lunghezze dei semiassi e questo è incredibile come qualsiasi matrice dimensioni n per p con i numeri qua dentro qualsiasi i valori gamma sono tutti positivi una cosa incredibile questo come tutti questi sì perché sono le lunghezze dei semiassi dell'ellisse e le lunghezze dei semiassi non possono essere negativi questa è la prima volta che l'ho visto ma come una matrice n per p di qualsiasi numero qua dei gamma che sono questi valori positivi gamma è una matrice diagonale che contiene sulla diagonale principale i valori singolari ossia le radici quadrate degli r autovalori non nulli di queste matrici ma questa è una cosa una cosa incredibile quando ho visto questo teorema qua per la prima volta ma come ognuno è contento quando vede cose diverse la prima volta che ho visto questo teorema mi ha reso quasi felice allora andiamo a vedere questo questo allora x trasposto x se io faccio gli autovalori di x trasposto x egg di x trasposto x allora egg di x trasposto per x questi qua sono gli autovalori poi invece allora x trasposto x che dimensione ha? una dimensione 5 per 5 5 autovalori adesso faccio x per x trasposto allora size di x è 100 per 5 perciò x per x per x trasposto quanto mi viene come size come è? no 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 faccio una 100 per 5 per un 5% che dimensione che dimensione mi viene? 100 per cento capito? di questa matrice che è dimensione 100 per cento che ci si mette un po' a visualizzare avete 100 per cento qua io ci faccio di nuovo gli autovalori 100 per cento ho 100 autovalori ho 100 autovalori 95 autovalori sono 0 e 5 autovalori sono non nulli e questi 5 autovalori non nulli che cosa sono? sono esattamente gli autovalori di x trasposto per x capito? ma guarda che roba eh ma perché queste di 5 sono una matrice per cento perché il rango è 5 capito? ecco perché la scomposizione in valori singolari qualsiasi matrice x di dimensioni n per p di rango r perciò nel nostro caso era 100 per 5 di rango 5 tu hai solamente 5 numeri hai uno spazio che ha 5 dimensioni e hai un elissoide che ha 5 assi principali la lunghezza di questi assi principali sono esattamente le radici quadrate degli autovalori ma guarda che roba eh vedi anche geometricamente come torna tutto eh tu la vedi come 100 per 5 il tuo spazio è a dimensione 5 un elissoide di dimensione 5 5 assi poi se tu lo vuoi vedere come spazio di dimensioni 100 hai 95 assi che sono di lunghezza 0 capito perciò gli autovalori di x trasposto x oppure di x trasposto sono esattamente gli stessi perciò gamma è una matrice diagonale che contiene sulla diagonale principale i valori singolari ossia le radici quadrate degli r autovalori non nulli delle matrici strasposto x oppure x strasposto o finché uno non lo vede a computer non ci può credere capito perciò se io parto dalla matrice i scontilde se io parto dalla matrice scontilde e qua moltiplico e divido per radice di n meno 1 se prima avevo gli autovalori di x trasposto x se faccio questa operazione io ho gli autovalori della matrice di varianze e covarianze poi questa matrice allora questa matrice radice di n meno 1 u per gamma se qua moltiplicate entrambi i membri per v v trasposto per v viene l'identità perciò questa scomposizione in valori singolari vi dà già tutte le matrici per calcolare gli score o eventualmente gli score standardizzati vi basta fare questo questa scomposizione in valori singolari avete tutto questa matrice mi dice anche che ogni questa scomposizione mi dice anche che ogni matrice x può essere scomposta nella sommatoria di r matrici ciascuna di rango 1 bene allora cosa vuol dire che io invece di prendere tutte tutte queste questi r valori della somma il gioco lo fa il gamma con i se gamma con i è piccolo se in una dimensione la lunghezza del semiasse è piccolo questa sommatoria qua moltiplico per una cosa che è vicina a zero ecco perché prendo i lambda con i più grandi ecco perché prendo gli assi principali e mi dice anche qual è la quota di varianza che non è spiegata capito quello che rimane fuori questo è importantissimo come x viene scritta come sommatoria di matrici ciascuna di rango 1 con la scomposizione in valore singolare allora torniamo a noi questo che vedete qua è esattamente implementato qua x con tilde c'è k1 u per gamma per v capito dunque poi se qua è la nostra matrice x dunque ognuna di questi di questo u3 v3 questi ognuna ognuna di questi blocchetti a rango 1 questa è scritta come sommatoria di matrici ciascuna di rango ciascuna di rango 1 di conseguenza invece che prendere qua la matrice u invece che prendere r colonne io ne prendo 2 gamma invece di prendere r per r ne prendo 2 faccio n per 2 2 per 2 2 per p invece di prenderle tutte questa qua sarebbe la ricostruzione esatta qua ne prendo solamente r2 solamente le prime 2 quale blocchetto 2 per 2 n per 2 per 2 per 2 per 2 per p questa è un'approssimazione è un'approssimazione di è la migliore approssimazione la migliore approssimazione di rango 2 questa u gamma v trasposto la ricostruisce perfettamente noi invece andiamo a far riferimento ad una ricostruzione parziale bene questa ricostruzione parziale vuol dire che la nostra matrice z è scritta come il prodotto di tre matrici u gamma e v trasposto allora torniamo adesso adesso al nostro al nostro grafico finalmente qua possiamo capire cosa vuol dire i punti riga i punti riga sono dati da u gamma elevati alla alfa per n meno 1 elevato alla omega questo omega esattamente questo omega magari pari a 1 ok omega pari a 1 allora qua c'è vedete omega pari a 1 se omega è pari a 1 qua ho u e vediamo per esempio alfa pari a 1 alfa pari a 1 mi viene u per gamma per radice di n meno 1 eccolo qua i punti riga radice di n meno 1 per u per gamma se faccio questo giochettino radice di n meno 1 per u per gamma radice di n meno 1 per u per gamma prendo questo come punti riga i punti colonna sono dati dai primi due autovettori 4 radice di n meno 1 per gamma i punti e le frecce sono dati da questo v eccolo qua vedete le coordinate delle frecce capito che figata qua controllo la lunghezza delle frecce o la lunghezza dei punti dunque in generale io ho questa matrice z che si può scrivere come il prodotto di tre matrici questa è la matrice dei valori singolari la metto nelle righe o la metto di qua ho il prodotto di tre matrici ho i punti riga che sono n per 2 qua n punti le città e poi dall'altra parte ci sono le frecce i punti riga sono questi u e le frecce sono questi due per p queste frecce per indicare i punti riga utilizzo solamente radice di n meno 1 u con 2 utilizzi radice di n meno 1 u con 2 per gamma e poi fare entrambi è esatto è proprio qua che sta il gioco questo gamma con 2 vedi con le frecce puoi metterlo o qua puoi metterlo qua oppure puoi metterlo dall'altra parte metterlo qua o puoi metterlo dall'altra parte allora vediamo un po' se proviamo a vedere nel caso in cui io dico questo gamma con 2 lo metto qua nei punti riga ok gamma con 2 lo metto nei punti riga chi lo vuole seguire nel testo siamo siamo a pagina 377 ecco esattamente 377 ah vedete esattamente quella che c'è nella slide pagina 377 abbiamo visto che la miglior rappresentazione di rango 2 sia in questa maniera questo gamma con 2 io lo posso scrivere come lo posso mettere di qua lo posso mettere di qua e allora ho che dunque ho gamma con 2 qua dove lo no prima lo metto l'ho messo da questa parte gamma con 2 per v con 2 2 ok perciò questi è la matrice dei cosiddetti loadings delle correlazioni che sono queste frecce la matrice invece questa z per v con 2 se qua moltiplico entrambi i membri per v con 2 qua e qua moltiplico per v con 2 qua v con 2 trasposto per v con 2 questa qua è l'identità perciò z per v con 2 queste qua sono questa matrice non sono altro che z per v le mie componenti principali i miei score i miei score non standardizzati capito se invece io qua questa matrice io la moltiplico in entrambi i membri per gamma con 2 e la meno 1 ho i cosiddetti score standardizzati perciò radice di n meno 1 per u con 2 contiene le componenti principali standardizzate queste matrici u e gamma mi permettono già di ottenere gli score standardizzati o non standardizzati cioè gli score a varianza unitaria oppure gli score a varianza lambda dunque in generale questa matrice z io la posso ricostruire come il prodotto di due matrici g e h perciò la rappresentazione di tipo a la rappresentazione di tipo a in cui ho che gli score sono gli score standardizzati che hanno matrice di varianza e covarianza unitaria sono gli score standardizzati e i punti colonna sono le correlazioni questa è una rappresentazione punti riga sono gli score standardizzati e i punti colonna sono le correlazioni oppure rappresentazione alternativa in cui i punti riga sono gli score non standardizzati a varianza lambda e in questo caso allora i punti colonna sono questi gli autovettori in generale io posso fare questo posso mettere due parametri alfa e omega che sono esattamente questi qua alfa e omega di queste due barre capito? questi qua sono i punti righe questi qua sono i punti colonna se omega è pari a 1 e alfa è pari a 1 se omega è pari a 1 e alfa è pari a 1 come punti riga o radice di n meno 1 per u per gamma radice di n meno 1 per u per gamma ok se vediamo un po' se alfa è pari a 0 se alfa è pari a 0 se alfa è pari a 0 allora se alfa è pari a 0 se alfa è pari a 0 allora andiamo a vedere se alfa è pari a 0 questo qua è pari a 0 questo qua i punti riga sono radici di n meno 1 per u eccolo qua le coordinate delle frecce sono questo gamma per v perciò abbiamo detto che alfa è pari a 0 questo qua viene 1 1 meno 0 i punti colonna i punti colonna v per gamma che sono le correlazioni le correlazioni e perciò il quadrato delle correlazioni è la lunghezza togliamo un po' ronems il quadrato delle correlazioni è la comunalità la quota di varianza spiegata la lunghezza della freccia tanto più la lunghezza della freccia si avvicina al cerchio unitario al cerchio unitario vuol dire che la quota di varianza spiegata tende a 1 tanto è vero che questa cosa qua io adesso gliela faccio gliela faccio scrivere nella command line vedete qua avete il vantaggio che tanto tutto questo l'ho tutto scritto io capito non è che si sta parlando di una persona che l'ha scritto con un altro che ha visto la lingua no capito vedi i punti quando omega e 1 è alfa 0 quando omega e 1 è alfa 0 quando omega e 1 è alfa 0 questo quando omega e 1 è alfa 0 quando omega e 1 è alfa 0 qua come punti riga omega e 1 è radici di n-1 per u con 2 perché alfa è 0 gamma elevata a 0 e 1 come punti riga è radici di n-1 per u con 2 come punti riga ok dunque allora aspettate andiamo eh sono riuscito a togliere il diavolo dunque allora lo rimettiamo lo rimettiamo qua e lo rimettiamo lo rimettiamo dunque allora i punti riga rappresentano le componenti principali standardizzate quando omega e 1 è alfa 0 andiamo a vedere quando omega e 1 è alfa 0 andiamo a vedere quando omega e 1 è alfa 0 qua è radice di n-1 per u con 2 radice di n-1 per u con 2 radice di n-1 per u u questo è z per v per gamma la meno 1 le frecce rappresentano le correlazioni tra le variabili e le componenti principali gamma per v gamma per v in questo caso la lunghezza della freccia alla comunarità della variabile e il cerchio unitario viene mostrato ecco andiamo a vedere un altro esempio di componenti principali 16 modelli di lavatrici 6 variabili le lavatrici hanno gli indicatori di prezzo giri consumi profondità energia load siamo siamo a pagina 369 l'esempio delle lavatrici passo 1 dato che le variabili hanno diverse unità di misura diverso ordine di grandezza va bene le variabili devono essere standardizzate calcol della matrice di correlazione nell'ambito della matrice di correlazione io mi accorgo che giri e prezzo hanno una correlazione molto elevata le lavatrici che costano di più sono quelle che hanno un maggior numero di giri consumo consumo e prezzo sono negativamente correlate e guarda anche vedere se prendo una lavatrice che costa tanto sarà in tripla A classe di consumo energetico e mi fa risparmiare o pago prima o pago dopo prendo una lavatrice che costa poco però consuma molto di più prendo una lavatrice che costa tanto ma consuma molto di meno consumo e prezzo ok legati in maniera negativa prezzo e profondità legati in maniera positiva non c'è relazione tra prezzo e indicatori di energia poi andiamo a vedere profondità e giri e questo qua 0.724 qua probabilmente le lavatrici appunto che riescono a sviluppare maggior numero di giri sono quelli probabilmente che sono molto più profonde va bene scomposizione in valori in valori singolari rappresentazione del dello script plot degli degli otto valori in questo caso vedete questo script plot e ci dice che dobbiamo prendere solamente i primi due otto valori in questo spazio di dimensione sette in realtà ce ne sono solamente due di semiassi e dell'elissoide che sono rilevanti quota di varianza spiegata è dei primi due l'81% ok variabili standardizzate sei variabili varianza totale sei ogni varianza è una variabili standardizzate interpretazione analisi della matrice delle correlazioni tra le variabili originarie e le componenti principali come si interpreta la prima componente principale la prima componente principale è legata in maniera positiva con il prezzo i giri e la profondità ok indicatore sintetico di prezzo giri e profondità la seconda componente principale è correlata in maniera forte crescente con il consumo l'energia e l'oda indicatore sintetico di consumo energia e l'oda poi la somma dei quadrati di questi numeri è il primo autovalore la somma dei quadrati di questi numeri è il secondo autovalore la somma dei quadrati di questi numeri è la comunalità la quota di varianza spiegata dalla parte delle prime due componenti principali e del prezzo e questa somma è 0.817 allora la comunalità maggiore si ha per i giri i giri è la variabile maggiormente spiegata dalle prime due componenti principali tutte le altre si aggirano intorno vedete quella spiegata meno è il consumo 0.77 vabbè poi score questa qua z per v questi qua sono gli score avevamo detto che la prima componente principale è un indicatore sintetico di prezzo giri e profondità prezzo giri e profondità perciò valori elevati della prima componente principale sono lavatrici che hanno elevato consumo elevata energia ed elevato l'oro capito ok dunque la prima componente principale è un indicatore sintetico di prezzo giri e profondità perciò valori elevati della prima componente principale sono le lavatrici che costano tanto hanno elevati giri e elevata profondità ad esempio miele qua mi dice che è uno score molto elevato perciò deve essere una lavatrice che ha elevato prezzo elevati giri e elevata profondità andiamola a vedere miele miele elevato prezzo sì è quella che costa più di tutti elevati giri sì è quella che ha i giri più elevati elevata profondità sì è uno dei valori più elevati in termini di profondità vedete questa è la prima componente principale indicatore sintetico di questi tre aspetti prezzo giri e profondità poi andiamo a vedere magari anche a e g che a e g stessa cosa score elevato allora li andiamo a rappresentare adesso questo e questo li andiamo a rappresentare questi questi score vedete a e g e miele si collocano qua questa qua è la componente di prezzo giri e profondità poi andiamo a rappresentare anche le frecce prezzo giri e profondità vedete giri e prezzo vedete vi ricordate che avevo una correlazione elevata e vedete che le due frecce hanno un angolo che è vicino a zero non solo ma queste due frecce hanno un angolo vicino a zero anche molto vicino a zero con la prima componente principale perché la prima componente principale è l'indicatore di profondità giri e prezzo la seconda componente principale invece era legata energia load e consumo e di questi sei variabili lui li ha divisi in due gruppi esatto esatto oh esatto vedi il prezzo ed il consumo come sono sono quasi 180 gradi e vedi come li rappresenti in questo spazio di dimensione 2 ma non era figata questa roba aveva uno spazio di dimensione 6 che non poteva assolutamente vedere questo è uno spazio di dimensione 2 che io posso vedere che mi spiega un soltanto 80% di varianza la lunghezza delle frecce è proporzionale alla comunalità poi dopo cosa rappresento simultaneamente le frecce e i punti d'accordo le frecce e i punti allora miele AIG vedete che sono nella direzione di prezzo e giri questi invece sono lavatrici che consumano tanto questo San Giorgio vedete che ha direzione di consumo questo LG electronics invece nella direzione qua di load poi io posso utilizzare una scala diversa per i punti e le frecce le frecce le posso far diventare più lunghe ho questi parametri omega ed alfa insomma nel caso del biplot io ho come informazione la lunghezza dei vettori che è proporzionale alla comunalità la quota di varianza di ogni variabile che viene spiegata dalle prime due componenti principali tanto più lunga la freccia tanto più grande la comunalità l'angolo tra coppie di vettori indica la relazione tra le corrispondenti variabili l'angolo tra ciascun vettore e l'asse tra ciascun vettore e l'asse mi indica la relazione con ciascuna componente principale vedete giri collegati in maniera positiva con la prima componente principale stessa cosa per prezzo invece consumo energia e load queste hanno una correlazione bassa anzi quasi nulla con la prima componente principale vedete che le frecce vanno nella direzione della seconda componente principale dunque mi raccomando nel biplot all'interpretazione in termini di lunghezza dei vettori angolo tra coppie di vettori e angolo tra ciascun vettore e l'asse cioè l'angolo tra ciascun vettore e l'asse è la correlazione tra le variabili e le componente in generale angolo vicino a 0 forte correlazione diretta angolo vicino a 90 gradi variabili ortogonali angolo vicino a 180 gradi forte colorazione lineare indiretta dunque adesso vediamo anche quest'altro esempio non c'è nel testo 12 facoltà di economia qua trovo una innanzitutto ho tre indicatori che sono laureati in corso durata media e frequentanti o che la matrice dei componenti mi dice che la prima componente principale è legata in maniera positiva con i laureati in corso in maniera negativa con la durata media e in maniera positiva con l'elevato numero di frequentanti perciò la prima componente principale è sicuramente l'indicatore sintetico di efficienza perché vuol dire bassa durata media elevati laureati elevati frequentanti ok poi calcolo della somma dei quadrati di questi tre numerini questo è l'auto valore 2.587 diviso 3 perché 3 sono le variabili standardizzate mi dice che la prima componente principale spiega l'86,1 per l'86,2 per cento la soglia 0,95 elevata alla terza ci dice va bene che è corretto lavorare con la prima componente principale è corretto pensare che anche se ho tre variabili io il mio spazio è a dimensione 1 poi vediamo un attimino anche questo quanto tempo abbiamo bene un bel po' di tempo ok allora vediamo questo del questo del poi tutto questo delle lavatrici per esempio per esempio quello delle lavatrici qua c'era biplot svd quella lavatrice qua c'è il codice per la lavatrici l'svd la rappresentazione di tipo a di tipo b di tipo di tipo c oppure questo biplot dinamico oppure semplicemente facendo questo tirando dentro il dataset delle lavatrici pcafs queste tre righe di codice è tutto a posto e c'è già tutto perfettamente va bene allora vi faccio notare che quello che vi ho fatto vedere ne le avevo fatto vedere vedete prezzo giri profondità eccolo qua vedete che queste hanno direzione a destra questo che vi viene fuori da mattra hanno direzione a sinistra perché se v è un altro vettore lo è anche meno v sono definiti a meno del segno perciò tutto invece di trovare l'indicatore di ricchezza trovo l'indicatore di povertà invece di fare il ranking dell'università dalla meno efficiente alla più efficiente faccio dalla più efficiente alla meno efficiente fate un po' quello che quello che volete ma anche se ribalto gli angoli gli angoli tra prezzo e giri mi rimangono uguali capite questa è la figata poi quando ho capite che questi l'elissoide gli assi ma c'è il semiasse che va in una direzione oppure va nell'altra capito i semiassi dell'elissoide finalmente quando uno le capisce poi dopo è anche bello poi dopo scatta il meccanismo di volerne sapere di più se voi in futuro riuscite a arrivare allo stadio e voi volete saperne di più è bellissimo poi uno dice va bene oltre un certo stadio poi i soldi non te ne frega gli importa di sapere infatti il reddito va a pari passo con il livello del titolo di studio poi c'è un livello oltre al quale va bene dici va bene mi importa mi importa di sapere determinate cose c'era il mio professore a Londra mi diceva se riesci a dimostrare questi teoremi tu mi sveglia a qualsiasi ora della notte tanto è vero che non ci sono riuscito non l'ho potuto svegliare a nessun'ora della notte ci ho provato perché da giovane mi ero messo lì carta e penna con buona volontà cercare di dimostrare questi teoremi ma non ce l'ho fatta vediamo questo andiamo avanti e vediamo fabbrica di wafer vengono fissate tre misure spessore lunghezza e larghezza queste devono avere determinate proporzioni perciò lo spessore deve essere una frazione della lunghezza e della larghezza mi dice rappresentare i dati in termini di coordinate parallele in modo da identificare eventuali valori anomali costruire la matrice di diagrammi di dispersione e vai a vedere la relazione tra le variabili e poi effettua la direduzione delle dimensioni scegli il numero di componenti appropriato eccetera eccetera e poi mi commenti e mi calcoli il plot allora va bene grafico in componenti parallele ho tre variabili queste qua delle componenti parallele non si vede niente è che giusto far vedere forse guarda si vede magari Waffer 2 4 magari questa linea gialla vedete questa linea che è un po' strana però andiamo a vedere i diagrammi di dispersione tra queste tre variabili tra queste tre variabili vediamo che c'è una relazione crescente tra spessore e lunghezza tra spessore e larghezza non sembra esserci più di tanto e anche tra lunghezza e larghezza vedete commento le variabili spessore e lunghezza sono fortemente diciamo sono sì sono fortemente correlate dai al contrario le altre due non sono così correlate matrice di correlazione qua allora abbiamo detto che spessore e lunghezza erano correlate in maniera positiva questa qua è la matrice di correlazione mi viene fuori 066 infatti una correlazione discreta vicino a 070 invece spessore e larghezza meno 010 lunghezza e larghezza meno 028 commento allora le variabili spessore e lunghezza sono fortemente correlate in maniera diretta al contrario nelle altre relazioni non sembra esserci una relazione elevata discutere le implicazioni della frase per ciascun tipo di woofer vengono fissate le proporzioni tra le tre misure se vengono fissate le proporzioni tra le tre misure vuol dire che lo spessore è una proporzione della lunghezza o è una proporzione della larghezza e che larghezza e lunghezza c'è un certo coefficiente o se volete ci sarà anche un'intercetta se volete di conseguenza se è vero se è vero questo il coefficiente di correlazione lineare tra queste tre variabili deve essere in tutti i casi uno se uno è un multiplo dell'altro invece questo qua c'è qualcosa che è fuori controllo capito poi effettuare una riduzione delle dimensioni queste erano i dati originali discutere se in questo contesto è preferibile lavorare sulla matrice di covarianza oppure sulla matrice di correlazione allora in questo caso le tre variabili presentano lo stesso ordine di grandezza e la stessa unità di misura perciò in questo caso è lecito standardizzare oppure non standardizzare i dati dimmi e no questo qua però vedi che hanno la stessa unità di misura vedi che variano tutte questa qua varia tra 7 e 9 questa varia tra 7 e 9 questa varia tra 1 e 5 insomma in range la variabilità è simile sì non c'è bisogno di standardizzare sì esatto se invece hai una cosa che uno ti varia tra 0 e 10 l'altro ti varia da 1000 a 100.000 poi assolutamente devi standardizzare questo indipendentemente dalla correlazione qua si sta parlando se le variabili hanno la stessa unità di misura lo stesso ordine grandezza capito qua infatti tant'è vero vedi nel testo prima c'è l'analisi preliminare ti faccio vedere la standardizzazione poi ti faccio vedere la relazione tra le variabili covarianza correlazione le componenti principali poi le raggruppa tutte adesso vedi vedendo anche gli ultimi capitoli del libro ti torna perché ha fatto questo nei diversi capitoli prima c'erano le analisi preliminari nell'analisi preliminare la forma di distribuzione delle diverse variabili poi abbiamo visto le relazioni tra le diverse variabili ma tutte a due a due le componenti principali invece ti fanno una riduzione delle dimensioni capito? capito? vedi tutto poi le tabelle di contingenza la prossima settimana analisi delle corrispondenze riduzione delle dimensioni nelle tabelle di contingenza e poi l'ultima invece è la cluster analysis formazione di gruppi omogenei dove devi seguire il percorso del corso e dei diversi capitoli eh allora le tre variabili stessa unità di misura e stessore di grandezza va bene qua fate un po' come volete volete standardizzare o non standardizzarle poi svd questa matrice che è z viene scomposta nel prodotto di questa radice di n-1 per u componenti principali standardizzate questi sono i valori singolari cioè gamma le radici quadrate degli autovalori della matrice di varianza e covarianza e questi sono gli di correlazione questi sono gli autovettori invece di prendere tutte queste invece di prendere queste tutte queste tre colonne questa io la cancello poi aspetta fatemi un po' prendere l'evidenziatore si questa io la cancello questa e questa le cancello questa la cancello capito io mi dimentico della terza dimensione perché tanto la terza dimensione è quella che ha il valore singolare più piccolo capito prendo solamente 2 2 e questo qua sarà 13 quello che sia n per 2 2 per 2 2 per 3 la mia matrice con tre colonne io la vado a rappresentare solamente utilizzando i primi due valori singolari allora varianza spiegata se io lavoro solamente con le prime due e devo lavorare con le prime due perché con la prima spiego neanche il 60% capito si con la prima spiego neanche il 60% perciò devo lavorare almeno con le prime due eh ero in dubbio però se hai tre cioè qua proprio qua puoi fare una riduzione delle dimensioni minimi puoi passare da 3 a 2 la seconda ti spiega un 30% eh oh difficile lasciare una cosa che ti spiega il 30% eh eh dipende sì esattamente esattamente dunque se le proporzioni fossero rispettate il primo autovalore dovrebbe spiegare tutta la variabilità è che qua 60% non viene spiegato qua se vogliamo spiegare almeno l'80% dobbiamo estrarre almeno le prime due componenti principali ma anche se vogliamo spiegare il 60% dunque la prima componente ti spiega il 59% circa di conseguenza non è sufficiente devi prendere le prime due con le prime due riesci a spiegare il 90% di variabilità bene hai preso le prime due come le interpreti le prime due componenti principali analisi analisi della matrice di componenti analisi della correlazione tra le variabili originarie e le componenti principali i wafer che presentano valori elevati della prima componente principale presentano basso spessore e bassa lunghezza e poi correlati a un po' con larghezza i wafer che presentano valori elevati della seconda componente principale sono sicuramente quelli che hanno una larghezza elevata capito questa qua è l'interpretazione bene andiamo a rappresentare le frecce l'angolo piccolo tra spessore e lunghezza vuol dire che c'è una correlazione tra lunghezza e spessore ma la larghezza vedete che è un angolo vicino a 90 gradi non è correlato con spessore e lunghezza vedete queste due dimensioni come mi servono non posso metterne una sola dunque poi vediamo un po' angolo approssimativamente di poco superiore a 90 gradi tra larghezza e spessore si tra larghezza e spessore passa correlazione poi angolo leggermente inferiore a 180 gradi tra lunghezza e prima componente principale tra lunghezza e prima componente principale angolo vicino a 180 gradi correlata negativamente e tant'è vero che lo vedevamo qua la correlazione con la prima componente principale vedete come torna tutto perfettamente poi comunalità somma dei quadrati di ogni riga sì sì allora la lunghezza la lunghezza è correlata in maniera forte negativa con la prima componente principale vedete la prima componente principale va qua è questa che è la 6x insomma la prima componente principale vedi la freccia della lunghezza come nella direzione opposta ah no la prima componente le componenti principali sono due quella prima e seconda se ho menzionato la testa mi scuso allora la prima componente principale è correlata in maniera negativa con spessore e lunghezza tant'è vero che le frecce relative spessore e lunghezza vanno nella direzione opposta e l'angolo che queste formano con l'angolo che queste formano con diciamo così con la la direzione della prima componente principale è vicino a 180 gradi esatto esatto vedi però vedendo le frecce ma te si apre un mondo rispetto a guardare questi numerini qua eh che hai visto si guarda i numerini meno 0.35 meno 0.92 però vedi le frecce e la colorazione è tutto un altro mondo eh poi lunghezza delle frecce lunghezza delle frecce vuol dire il quadrato della coordinata x più il quadrato della coordinata y la lunghezza dell'ipotenusa la norma al quadrato la comunalità la quota di varianza spiegata cioè meno 0.85 al quadrato più 0.37 al quadrato mi dà 0.86 capito capito cioè dice la comunalità quale è la variabile maggiormente spiegata la variabile maggiormente spiegata è la larghezza quella che ha la freccia più grande la larghezza la larghezza che ha la freccia più lunga devono essere poi con la stessa scala va bene questo è fatto in excel che non hanno assolutamente dove devi mettere fare lo matlab assis equal allora calcolare le comunalità la variabile larghezza è spiegata quasi interamente dalle prime due componenti principali rappresentazione grafica degli score ok rappresenta questo questi qua sono le unità andiamo a vedere che qua nella prima valori elevati della prima componente principale erano valori di wafer che avevano bassa lunghezza e basso spessore questa qua w con 2 a bassa lunghezza e basso spessore andiamo a vedere w con 2 w con 2 bassa lunghezza e basso spessore eccolo qua vedete come torna tutta bassa lunghezza e basso spessore poi w 4 questa qua c'era elevata lunghezza e elevato spessore qua w 4 elevato spessore ed elevata lunghezza eccolo qua w 4 eh che figata come torna tutto questa qua è una rappresentazione in due dimensioni in realtà il piano ne ha tre di dimensione le variabili non sono correlate al massimo però 2 ti basta per vedere tutto dunque allora per calcolare gli score possono essere normalizzati e non normalizzati allora o ci metto questa u per gamma questo u per gamma sarebbe z per v gli score che sono non normalizzati poi poi l'esercizio richiedeva su questi su questi mi va a calcolare la distanza o quell'idea di ogni punto rispetto al centroide mi va a calcolare distanze di ogni punto rispetto al centroide e perciò vedete questi score erano questo z per v in excel matta punto prodotto z per v vabbè in matta va essenzialmente z per v dopo ho trovato questa matrice poi ti va a trovare la distanza o quell'idea fai la somma dei quadrati sotto la radice quadrata e sarebbe la distanza la distanza di ogni punto rispetto al centroide la distanza di ogni punto rispetto al baricentro 0 0 allora i waffer 2 e 4 i waffer 2 e 4 che erano effettivamente quelli che avevano in termini coordinate parallele che erano un po' strani erano quelli che sono quelli che hanno la distanza euclidea maggiore rispetto al centroide sono i waffer 2 e 4 sono i waffer 2 e il waffer 4 che sono quelli più distanti capito dunque commento al biplot i punti che si trovano lungo la direzione di una determinata freccia indicano le unità che sono caratterizzati da valori elevati di quella variabile w6 caratterizzato da valori elevati di larghezza perché è nella direzione della freccia a questo punto poi ci mettiamo anche il nostro biplot sovrapponiamo il cerchio delle correlazioni unitarie e la comunalità in questo caso vedete larghezza larghezza questa è una comunalità vicina a 1 la quota di varianza spiegata di quella variabile è molto vicina a 1 e hai visto che figata questo ultimi 5 minuti l'esempio degli scrittori l'esempio degli scrittori ce l'avete o così ce l'avete a quasi la 377 l'esempio degli scrittori l'esempio degli scrittori 377 qua viene fatto tutto con PCAFS adesso io commento i diversi i diversi passaggi poi PCAFS e PCAFS della serie degli scrittori tutto però 6 variabili gli scrittori sono stati giudicati in base quale è il tuo giudizio complessivo la leggibilità se trattano temi di politica di fantasy desiderio di rilettura e attualità grafico in coordinato e parallele non vedo niente niente matrice di correlazione correlazione elevata tra leggibilità e rilettura ci sta se dico che leggo un libro e questo dico che è leggibile mi viene voglia di rileggere come guardo una serie tv che dici va bene bella poi dopo la vuoi riguardare dunque questo è il commento ovvio poi dunque calcolare il diagramma di dispersione tra le variabili Scon5 e Scon2 e commentare la relazione e illustrare se in questo diagramma di dispersione c'è un qualche valore anomalo diagramma di dispersione tra leggibilità e rilettura con i nomi degli scrittori vedete questo naser è forse l'unico che è un valore anomalo bivariato gli altri vedete che sono per lo più lungo una una possibile retta che posso tracciare vedete questa è la fascia eh questo è il commento capito questo naser è uno che ha una leggibilità va bene torno a 8-9 ma ha un desiderio di rilettura molto più basso rispetto alla sua leggibilità eccolo qua il commento dunque le variabili presentano lo stesso ordine di grandezza si poteva lavorare in termini di scostamenti dalla media però lavoriamo in termini di scostamenti standardizzati quota di varianza spiegata quota di varianza spiegata le prime due componenti spiegano il 75% ok vedete gli autovalori adottando il criterio degli autovalori maggiori di 1 prendiamo le prime due componenti principali come si interpretano le prime due componenti principali analisi delle correlazioni tra le variabili originarie e le componenti principali gli scrittori che presentano valori elevati della prima componente principale sono scrittori che 20 secondi ci pensate gli scrittori che presentano valori elevati della prima componente principale sono caratterizzati dai sono da bassi temi di politica esatto e che e non di attualità eccolo qua il commento bene perciò valori elevati della prima componente principale sono quelli che non hanno niente a che fare con politica sono quelli del signor degli anelli del capito niente a che vedere con la politica che trattano maggiormente di politica ma certamente ma certamente questa qua è da quelli meno fantasy a quelli più fantasy oppure può ribaltare interpretazione dunque vediamo gli scrittori che presentano valori elevati della seconda componente principale hanno elevato giudizio complessivo elevata leggibilità espirano alla rilettura oh avete visto nostro biplot qua perciò c'è fantasy elevata leggibilità e poi qua c'era seconda componente principale alto giudizio complessivo elevata leggibilità perciò questi due che sono gli scrittori di Harry Potter e del signore degli anelli sono scrittori che trattano elevati temi di fantasy hanno elevata leggibilità e ispirano alla rilettura dall'altra parte dall'altra parte non so se riconoscete questi arte gadda questi hanno scritto impero eros priapo sono temi legati al fascismo all'attualità alla politica e vedete anche la fallace non so se la fallace ve la ricordate una giornalista che anche negli ultimi tempi le polemiche lì sul sull'islam insomma essendo stata una scrittrice che ha trattato temi di attualità e di politica insomma questa è la zona degli scrittori che trattano temi di attualità e di politica questi gli scrittori con i fantasy questa è elevata leggibilità ispirano la rilettura e qua vedete che lucarelli viene fuori molto male questo è il risultato dell'indagine poi angolo piccolo tra politica e attualità tra politica e attualità indica che le variabili sono fortemente correlate poi vedete politica e attualità hanno una direzione opposta rispetto alla freccia legata al fantasy lo vedete ma è che è figata la rappresentazione dello spazio a due dimensioni qua ho tutto e poi la direzione vedete la fallacica in questa direzione vedete questi rolling e toll che sono nella direzione di queste tre variabili poi queste frecce le posso mettere più lunghe o meno lunghe poi somma dei quadrati delle coordinate x e y comunalità quota di varianza spiegata la variabile spiegata meglio è l'attualità poi quello che posso fare che non abbiamo ancora visto è fare i cluster cioè andare a mettere ogni scrittore in un determinato gruppo raggruppare che sarà l'oggetto dell'ultimo capitolo e poi anche il biplot con l'indicazione a quale cluster appartiene bene ragazzi io vi ringrazio allora se volete venerdì facciamo un esempio con le con analisi di componenti principali dove vi si chiede di commentare il un esempio di analisi di componenti principali bene io vi ringrazio allora ricordate che martedì prossimo non c'è lezioni invece ci vediamo venerdì martedì prossimo non c'è ci vediamo invece giovedì prossimo per la prossima lezione frontale invece domani per il laboratorio diffondete la notizia sul seminario grazie a tutti ciao Grazie.